Prima giurata, ti chiami? Serena, cognome? Serena Traversone. Seconda bambina, Serena che tu? Cognome? Ah ero preoccupato perché... Serena? Blanchi? Ho detto giusto? Bene. Tu? Ambra? Michelini? Perfetto. Tu? Massimiliano? Devoto? Bene. Eh no, c'è già la clacqua eh? Erano tutte bambine quelle che ti hanno applaudito Massimiliano, ho visto io. Tu? Roberto? Cognome? Prego? Rinaldi? Poi? Federico? Prego? Leo Lidi? Leo Lidi? Andrea? C'è Ruti? Sei parente della Gelma per caso? Poi tu? Laura? Traversone? Prego? Antonio Traversone? Non dirmi che sei una Traversone anche tu, no. Paola Benzoni? Questa è la nostra giuria. In piedi giurati, in piedi giurati. Ricevete l'applauso del pubblico. Abbiamo la nostra notaia, chiamiamola così eh? Anna, che a questo punto ogni spettacolo che si rispetta le sue vallette, showgirl, donne d'attrazione, e noi non so, qui abbiamo semplicemente Daniela e Paola. Renato, non cominciare. Ho sentito chi eri tu. Buonasera, buonasera. Allora, siete pronte per cominciare? Avremo bisogno dei concorrenti a questo punto che andremo a conoscere.